...a direttore di Fletcher Christian, che ha guidato il Newt me on the Bounty in 1789. E questo è Vincenzo Vlatti, che è un esperto italiano. E ho parlato con lui e vedo che è veramente seriosamente ricercato e attraverso la storia del Newt me on Bounty, e di Pithian Island, e di Norvago Island. Praticamente sta dicendo, sto parlando di Vincenzo, che è un grande ricercatore della storia del Bounty. Questo signore è Glyn Christian, uno scrittore di libri, che è il settimo discendente della generazione dei Christian. Grazie, thank you very much Mr. Glyn.